Benvenuti a tutti in questo nuovo video dove si tratterà della manipolazione dei testimoni di Geova mi è stato mandato un audio di whatsapp da quella che sapete chiamo nonna acquisita insomma una signora che ha superato gli 80 anni che mi segue che è inattiva nei testimoni di Geova da molto tempo è una persona veramente molto in gamba, molto intelligente e appunto anche alla sua età riesce a tenere testa a certi tipi di manipolazione infatti mi ha girato l'audio dicendomi di diffonderlo mi ha anche detto che non vi era problema far sentire la sua voce ma ho preferito censurare qualsiasi informazione ovviamente per un discorso di privacy ma anche di modificare la voce di chi mi ha mandato l'audio insomma quindi per tutelarlo ho preferito fare così vedremo un audio che durerà 11 minuti è un audio che a me personalmente mi ha disturbato parecchio lo inserirò qui su youtube all'interno della playlist dove ho messo già altri audio che ho analizzato ve li metto nell'annotazione qua vedrete se siete interessati a sentire altri audio e poi la mia analisi questa è la playlist insomma se non ricordo male dovrebbe essere il terzo video che faccio di questo genere se avete audio da mandarmi che sono molto indicativi per analizzare il tipo di comunicazione manipolatoria che fanno i testimoni di Geova mandatemeli perché secondo me questi sono contenuti molto importanti anche perché oggi vedremo quello che succede spesso nei testimoni di Geova cioè una sorta di dicotomia tra come loro si mostrano alle persone e come poi sono nel privato perché quando li vedete ah i testimoni di Geova che brave persone magari eccetera eccetera però non voglio dire che siano cattivi però diciamo che la loro comunicazione passa molto facilmente da assertiva nel pubblico quando si interfacciano magari con una persona sconosciuta a manipolatoria poi nel privato e lo vedremo perché ci saranno da fare molte parentesi in questo video soprattutto cercare di capire il contesto manipolatorio che si realizza non solamente con una frase hai detto una frase e hai fatto una manipolazione c'è proprio un contesto manipolatorio infatti spesso quando lo vedremo anche nell'audio la persuasione e la manipolazione qualcuno può pensare che siano la stessa cosa in realtà come vedremo anche nell'audio si parla di manipolazione proprio perché nella manipolazione avviene quella che è una punizione ma gli esempi ci saranno e ve li farò vedere la persuasione è un confronto dove una persona cerca di convincere l'altra persona ad aderire alla sua idea però se non funziona la persuasione amici come prima invece la manipolazione funziona che se una persona resiste alla manipolazione resistere non significa di essere consapevoli di essere manipolati se però una persona è infastidita rispetto a certe cose nel contesto manipolatorio avviene una punizione lo vedremo qua vi volevo aprire una parentesi per dire il contesto manipolatorio è fatto di tanti espedienti soprattutto quando non c'è una comunicazione assertiva ma arriveremo di nuovo dopo al discorso adesso vi lascio con l'audio durerà 11 minuti ci saranno delle parti in cui non capirete bene cosa si dice ma vi assicuro che le parti interessanti sono quelle dove si capisce bene il discorso magari vi metterò anche delle scritte che vi daranno l'idea del contesto di ciò di cui si sta parlando in alcuni momenti almeno per voi sarà più facile seguire il filo del discorso ovviamente con le voci modificate è più difficile ascoltare bene però mi raccomando cioè l'ho ascoltato un po' di volte si capisce l'audio magari alzate il volume in questo audio qua ci sono un uomo e una donna che non siamo riusciti a capire se era un anziano e se la donna fosse la moglie non lo sappiamo fatto sta che c'è una donna e un uomo testimoni di Java e il marito che parla con lei detto questo ci vediamo tra poco dopo l'audio per l'analisi dell'audio insomma ognuno fa le sue scelte vi dovi incoraggiare a vicenda eh sì bello è così bello sulle scelte spirituali lei è libera di farle sulle scelte una volta è capito però sulle scelte lei guarda sempre basso lei guarda sempre è inutile se stai qui a se avete una figlia che sta in mezzo Io ho avuto modo di parlare con me, è una bella sorella, ha dei modi, anche una spiritualità così profonda, cioè lei potrebbe dire, no? No, è proprio una figlia che vive in vetro, si è arricchita vivendo in vetro, ma non le danno neanche i soldi della benzina per andare a casa, è il lavoro nero, è solo sfruttamento. No, non è lavoro volontario, non è lavoro nero, è passato per volontario, perlomeno le devono dare i soldi per la benzina, ma se ne è rotto qua, e te l'hai detto che ha la donna, io lo... Guarda che mio figlio oggi è partito per... Allora per la Caritas va bene per te, allora per la Caritas se sono volontari allora va bene. Ma se ne ha quant'altro, stamattina? Mio figlio stamattina è partito per 20.000, starà là un mese a lavorare gratis per costruire una sala di regno, parte questa notte per andare, non so quanto sta via, in Sardegna a costruire anche là. E lo fanno, nessuno gliel'ha chiesto, gliel'ha imposto, lo fanno volontariamente, proprio come dice la Bibbia, il mio popolo si offrirà volontariamente, capito? Tua figlia da anni si sta offrendo volontariamente, non è lavoro nero, perché non è pagata, se fosse pagata sarebbe lavoro nero, capito? E' lavoro volontario donato a Geova, donato all'Idio che è l'investimento più grande che tua figlia può fare, perché per quanto possiamo guadagnare? Non ti sembra più giusto che noi abbiamo, io, anche lui, abbiamo necessità, potrebbe fare la volontaria in casa nostra, aiutare i suoi genitori? Ma come fa? E perché non può farlo anche la mia, che è qua più vicino? Io sto parlando della... Eh? Comunque a una persona bisogna sentirsi realizzata, di fare la propria vita, cioè anche tu come mamma, mica vorresti che lei infiegasse la sua vita e magari... Cioè lei adesso ha un'età in cui sta facendo una cosa che la rende felice e tu non sei felice di la sua felicità? Io penso di sì, perché ogni mamma, io quando ho visto stamattina partire tutto contento, va lì in un ambiente di tanti giovani volontari, ma sai che esperienza di vita? Ma ti pagherebbero miliardi per avere una formazione di vita così bella, di persone di ogni nazione che vengono lì e ti danno la loro cultura, la loro esperienza di vita. Anche perché l'alternativa, stare nelle organizzazioni qui, vogliono andare in un esercito violenta, bestemmie, roba che... capito? Ma perché il mondo è fatto solo di questo? Non è vero? È fatto perché io non sono mai stata violenta, le mie vicine di casa non sono mai violenti, sono persone che amano la famiglia, che rispettano l'invenzione. Ma non hanno l'alternativa. Poi all'improvviso se ti ammazza la moglie, ammazza la figlia, come stai... Ma però succede lo stesso? No, un momento, un momento, c'è da specificare anche un'altra piccola cosa. Non è vero che sono stati tanto tolleranti, specialmente quello qui di fronte, perché in tante e tante occasioni mi rifacciava il fatto che ero un tesemone religioso, ma tante. E tante volte io glielo chiedevo il perché fosse arrabbiato con me. Io gli dicevo ma dimmi il perché. Perché ti menti le cose? Di che cose invento le cose? Ma dai, intanto è morto. Ma sì, è morto. Non è vero che Raffa raccontano le storie. Ma sì, è morto. Comunque io vivo ancora e lavoro. Ma non è cosa... Ma non è cosa... Non lo parli così. Ma non sto parlando. È stata una prima splendida persona. Allora, allora, prima di tutto c'è stato uno di quelli che quando è stato male c'è stato il primo a correre. Forse, se c'hanno solo a correre. Eh, va bene, va bene. Di primo no, anche questi di sopra. Perché poi fisicamente non ce la facevo danzando perché ero smenuto e non ce la facevo metterlo sul letto. È quello. E loro ho chiamato loro. Ma non è mica una bestia, abita di fronte. Logico che bisogna andare. Ma via, ascolta, lui ti sta spiegando un'altra cosa. Cioè, non è che sta parlando male in memoria di questa persona. Non sto parlando male di quello. Sto parlando semplicemente che anche nel suo coscio lui era sempre il contrario. E lasciamo stare i stati particolari. No, non è vero. Però guarda cosa ti sta dicendo. Io vedo anche negli ambienti di lavoro, al di là dei testi di Geova, sono tutti amici, quando si divertono, ma si parlano dietro. Se ne fanno di tutti i colori. E se possono, per guadagnare una lira in più, ammazzano quell'altro. Capito? Poi adesso tra dieci giorni inviteranno tutti alla cena aziendale, lì tutti a far la festa. Perché si mangia. Ma poi l'ambiente. Eccola lì. Si odiano quelle persone. Io le vedo che si odiano. Cosa che non vedi in una sala del regno. Perché le persone che fanno degli errori, per carità, ci sono. Ma non vedo quell'odio che c'è nel mondo. Se vado a uno stadio, quando c'è una partita, vedi l'odio, vedi la violenza, vedi... Se vedi quando c'è un'assemblea, non lo vedi. Che bello. È un paradiso spirituale. E non puoi negare queste cose qui. Non puoi negare. Stai negando l'evidenza. Stai negando l'evidenza. Sì, ok. Ed è impossibile. Non ti possiamo permettere di negare l'evidenza, ma per il tuo bene. Non per il nostro. Perché l'andone l'abbiamo capito. Ci dispiace vedere che non vedi cose che sono... E anche tu dici queste organizzazioni religiose, la carità, scusate. Io ho visto quel congresso che c'è stato a Roma, 20.000 persone. Lado... Ha dovuto chiamarle ruspe a tirar su le mondizie dopo. E il comune infatti ha detto non faremo più manifestazioni del Diene perché costa... Vai a vedere dopo un'assemblea cosa resta per terra. Mamma mia, siamo andati a Marassi di Genova. Mi ricordo, c'erano i figli piccoli. Abbiamo reso quella... Quello stadio... Quello stadio... Quello stadio... Quello stadio... Quello stadio... Andavamo gli ricordi al mattino a prendere la mangia e ci lodavano. Lodavano i testimoni di Genova per il lavoro che avevano fatto. Ma Genova, ti ricordi? Eh, avete avuto già la vostra ricompensa. La lode dell'uomo. No, non l'avete. No, l'avete già avuta. È quello che aspettate. No, non abbiamo la lode dell'uomo. Però, quando l'uomo vede l'evidenza dei fatti, è ovvio che è costretto a dichiarare certe cose. Sì, adesso devo far da mangiare. Mi aiuti a far da mangiare? Adesso devo andare a far da mangiare il fatto. Mi aiuti tu? A me. Allora, io sono in condizione di non poter aiutare nessuno. Ho 81 anni, 82 anni. Ecco, voi siete venuti a farmi una visita. Ti dico, se mi dai una mano a fare una cosa, no, devo andare. Allora, tu non ti dico se li fanno. Ma perché tu non ti dici di andare a far da mangiare. Ma perché tu non ti dici di andare a far da mangiare. Io te vuoi volentieri? Ecco, sì, tanto perché ho insistito. Ma non è di cuore, non è di cuore. Basta, basta, basta. Attualità. Che, che... Se vuoi venire domani? Non dirglielo di casa. Vieni domani, ti aspetto domani. Domani mattina? No, domani mattina devi venire. No, signora. Facciarlo. Eh no, ascolta. Io non è che sono chiusa a far niente. Io posso domani mattina. Tu puoi? Un altro giorno. Perché domani mattina viene la signora. No, delle polizie. No, delle polizie. E ora ti vieni qualcuno a fare le polizie. No, ma hai capito cosa vuol dire? Sì, sì, sì. Hai capito cosa vuol dire? Vuol dire aiuto concreto. Hai capito. L'aiuto concreto ha significato di parlare. Ah, ah, ah. Perché noi siamo quello che pensiamo. Va bene, va bene, comunque niente. Ciao. Fai la brava. Io sono già brava. Non c'è bisogno. Cioè, io li vengo a trovare una volta che non è che ci conosciamo tantissimo. No, appunto. Eh. Ok, come? Cerca di essere... Quindi, così, sì, va. Io ho... Allora... Sono... Ho sempre... C'è qua, tampe la brava. Cioè, come dire... Come dire, a me non mi... Mi sembra che non ti manca niente. Io... Mi sembra che... E poi mi organizzo e lo vengo anche qua. Però... C'è qui che... C'è qui che... C'è qui che... C'è qui che... Ma la figlia... Ma la figlia... C'è una sorella... Hai una vera cosa? Ascoltami. Adesso stiamo dando la priorità, per esempio, a fratelli e sorelle che hanno proprio delle situazioni, tipo c'è una sorella che si è rotta il piede. C'ha tre figli. Eh. È chiaro che siamo andati anche da questa sorella qua? O abbiamo sbagliato? Ecco, lo vengono a venire solo da te. No, no. No, no. Io sto dicendo. Adesso... Il mese scorso siamo andati da questa sorella. Ma voi andate dappertutto, lo so. Ma questo non è un prego. Ma lo scopo... E' il nostro amore. Ma no, ma questo qui... Basta. La figlia fione che hai. Ma sì, papà, piantalo. Dai, mi stanno confondendo. Ma che confusione, miseria. Che vergogna. Che vergogna. Eccoci qua. So già benissimo che molti di voi saranno veramente infastiditi da questo tipo di... Manipolazione. E' veramente... Possiamo... Se qualcuno di voi ha già visto gli audio vecchi, avrà già visto che ci sono molte... Correlazioni, no? Sono lo stesso modo di comunicare. Io direi di iniziare... Ok, dai. Iniziamo a valutare... Analizzare il contesto, insomma, della manipolazione di questo audio. Vedrete che ci sono un sacco di elementi che vi tirerò fuori. Il video so già che durerà un po'. Però penso anche che potrà essere molto interessante. Anche perché questo tipo di manipolazione può sussistere anche in altri contesti. Relazionali, lavorativi... In altre, magari, associazioni politiche, partiti. Cioè, quindi, insomma, potrà essere molto utile. Andiamo a vedere... Andiamo... Insomma, iniziamo a valutare cosa possiamo analizzare in questo audio. Beh, già partiamo... Già partiamo malissimo. Ecco, mi sono sognato... Per i primi tre minuti di audio mi sono segnato dei punti. Quindi mi fermerò e leggerò anche qualche riflessione che mi sono scritto. Allora, innanzitutto partiamo malissimo. Che si dice, vi dovete incoraggiare a vicenda. E' quel... A vicenda. E' quello, è così bello. Per le cose spirituali, una volta, lei guarda sempre basso, dice suo marito. E il marito, insomma, a questo punto gli dice... Lei guarda sempre in basso, no? Quando si parlava delle cose spirituali, no? Già si parte col... In colpare, no? Senso di colpa per non essere persone... Ma non... Loro dicono spirituali, ma è ovvio che si intende per essere testimoni di Giova attivi che svolgono il loro ministero, no? Il senso è quello lì. E quindi già partiamo male da... Immediatamente. Lei guarda sempre basso, lei guarda sempre... Sentito, ha detto guarda sempre basso, guarda sempre basso, come per dire, altro che spirituale. Avete una figlia che sta in Betel, che bello, eh? Anche qua, insomma, ci ritorneremo dopo su questo argomento. Intanto, segnate. Beh, anche qua diciamo un po' continua, diciamo una sorta di gaslighting, perché... Insomma, prende la figlia come modello per far sentire inadatta alla madre, no? Come per dire, guarda la figlia, beh, è alla Betel, eh... E la madre invece, no? Per dire, guarda che esempio che c'hai e tu non lo fai, no? La specie è proprio una figlia che vive in Betel, si è arricchita vivendo in Betel. Si è arricchita? Si è arricchita vivendo in Betel. E la mamma? Ma non le danno neanche i soldi della benzina per andare a casa? E allora, vedi? E allora... E' lavoro nero, è solo sfruttamento. No, non è lavoro nero, non è lavoro nero. E' volontario? Se è da nero, se le misce a farlo. E' passato per volontario. Eh, qua si apre il discorso del volontariato, dove i Beteliti impiegano anni di lavoro, non sviluppano nessuna competenza, per poi venire scaricati quando non servono più. Vi ricordo che stiamo parlando di un'organizzazione che ha miliardi di dollari solo di patrimonio immobiliare. E ripeto, ha miliardi di dollari solo di patrimonio immobiliare. Giusto per dare un'idea della questione. Quindi queste persone non vengono retribuite, come dice nell'audio questo probabile anziano, forse, forse, dico forse perché non lo so. Eh, o comunque questo testimone di Geova che è venuto a visitare la signora, no? Ecco, funziona così, che si va lì alla Betel, si lavora, e poi quando si esce non si è nessuno, non fa curriculum, non fa niente, non si hanno sovvenzioni, non c'è un percorso di inserimento lavorativo, niente. E le persone rimangono così, con un pugno di mosche in mano. Comunque, andiamo avanti col discorso perché forse ci rientreremo anche dopo. Adesso si riapre il discorso Caritas, che è veramente assurdo. Il marito dice, allora la Caritas va bene per te, ma la Caritas, a differenza degli inutili beteliti, si occupa di soccorrere chi è in condizioni di povertà assoluta. Hanno uno scopo sociale che è del tutto incomparabile con l'inutilità sociale del lavorare alla Betel. È totalmente incomparabile. Piuttosto, io una cosa che farò quest'anno è andare a vedere come hanno impiegato il 5 per 1000. Voglio vedere che scopo socialmente utile hanno fatto con questi soldi che prendono dallo Stato. Non ho mai visto testimoni di Giova fare, non so, distribuzione di beni di prima necessità. Io li reputo una delle religioni più ipocrite ed egoiste che ci possano essere sul suolo italiano. Mi dispiace, ma i dati parlano chiaro. Andiamo avanti col discorso. Ma fai la quanta cosa? Mio figlio stamattina è partito per 20 mila, starà un mese a lavorare gratis per costruire una sala di regno. Parte questa notte per andare... Cioè qua dice che suo figlio è partito per 20 mila a andare a costruire la sala del regno. E poi un altro fratello dopo dirà... Adesso continuo, almeno vi sentite tutta la frase. Non so quanto sta via in Sardegna a costruire anche là. E lo fanno... Nessuno glielo ha chiesto, glielo ha imposto. Lo fanno volontariamente. Proprio come dice la Bibbia. Allora dice, mio figlio è partito per 20 mila per costruire una sala del regno. Un altro fratello di cui non dico il nome, perché lo dice, dice il nome, nell'audio ma io l'ho cancellato. Parte questa notte per andare in Sardegna. Nessuno glielo ha chiesto o glielo ha imposto, no? Ma il problema della questione non è criticare il volontariato di per sé. Il problema è come fanno loro. Cioè, come funziona la Watchtower. E ve lo rispiego, perché ci ho dedicato una live che magari vi metto anche questo nelle annotazioni, no? Cioè, è assurdo che la Watchtower si intesti le proprietà degli immobili. È semplicemente assurdo che dagli anni Ottanta la Watchtower aveva messo a disposizione un fondo per prestiti che è stato rimosso poco tempo fa, ma per tutti questi decenni. C'è stato questo fondo in cui venivano prestati soldi ai fratelli per costruire le sale del regno. Poi questi soldi andavano restituiti, restituiti, comprensivi dell'inflazione che era intercorsa in quell'anno. O in quegli anni, dipende quando era... Poi, cioè, più anni passano, più l'inflazione sale. Generalmente l'inflazione sale sempre. È difficile che scenda. Quindi, generalmente c'è un'inflazione del 6%, giù di lì così. Cioè, quindi più anni passano, più si pagherà di inflazione. Cioè, se voi avete speso 100.000 euro, dovrete restituire 106.000 euro, per dire. E quel sovrapprezzo è un po' come dire, sapete, nella Bibbia si dice non prestare a interesse. Però quell'inflazione lì non è che la paga la Watchtower con tutti i suoi miliardi di capitale. No, la fa pagare agli adepti. Cioè, praticamente i testimoni di Giova per decenni hanno pagato la Watchtower per costruire sale del regno che erano poi intestate di sua proprietà. Questo significa fare, ragazzi, letteralmente all-in. Cioè, la Watchtower vince tutto. La Watchtower vince tutto. Ai fratelli non rimane nulla. E qui mi corre l'obbligo sempre di leggervi la scrittura che vi dico sempre di Atti, capitolo 4. Io qua mi sono preparato delle scritture che vi farò leggere, perché sono funzionali anche queste, a fare capire certi discorsi. Io devo rileggervi Atti, capitolo 4, dal versetto 32. Inoltre, la moltitudine di quelli che avevano creduto aveva un solo cuore, una sola anima. Nemmeno uno di loro considerava sue le cose che possedeva, ma avevano ogni cosa in comune. Gli apostoli continuavano con grande vigore a rendere testimonianza riguardo alla risurrezione di Signore Gesù. E a tutti loro era mostrata in meritata benignità in grande misura. Infatti, fra loro, e leggiamo che anche questo il 34 è importantissimo, infatti, fra loro non c'era nessuno nel bisogno. Perché tutti quelli che possedevano campi o case li vendevano, li portavano ricarvato della vendita e lo depositavano agli apostoli. E qua, se ci fermiamo un attimo, un testimone di Java potrebbe dire, lo facciamo anche noi, lo portiamo ai piedi del corpo direttivo della Watchtower. Bene, continuiamo con la scrittura, dice, questo veniva poi distribuito a ciascuno in base alle sue necessità. Capito? Io adesso faccio una domanda a voi, testimoni di Java, se c'è qualcuno di voi nel bisogno che magari vive in un monolocale scrauso, che ha dei problemi economici, che non riesce ad arrivare a fine mese, che ha dei figli e ha la cinghia tirata che purtroppo ha pochi soldi da impiegare per le cose di prima necessità. Infatti qua dice, Giuseppe degli apostoli soprannombinato Barnaba, vendette il pezzo di terra che possedeva e consegnò il denaro depositando ai piedi degli apostoli. E poi ovviamente, come si dice nei versetti prima, queste cose qua vengono redistribuite, così dice questo versetto. E io mi aspetterei che un cristiano facesse questa sorta di protocomunismo che c'era qua, cioè che tutto è di tutti e chi ha tanto è giusto che lo dà chi ha di meno, per dire, no? Ecco, invece no, qua si dà tutto alla Watchtower e la Watchtower addirittura chiedeva gli interessi, ragazzi, gli interessi della inflazione sulle sale del regno che rimanevano intestate totalmente proprietà di Watchtower. Cioè qua siamo veramente all'assurdità più totale. Cioè se la proprietà fosse dei fratelli che hanno comprato queste cose, io potrei dire va bene, pagate la Watchtower che vi fa il prestito, ci sta, ci può stare. Ma se si intestano la proprietà, la Watchtower, ma gli fai pagare pure l'interesse dell'inflazione che è salita? Cioè ragazzi, ma sono tanti soldi, eh? Cioè non so se avete idea in 40 anni quanti milioni di inflazione avranno incassato questi. Cioè, inflazione significa che, sapete perché i beni aumentano nel passatempo e i beni costano di più, no? Però la Watchtower potrebbe dire, vabbè dai lo paghiamo noi, visto che noi ci intestiamo la sala, paghiamo noi questo surplus di inflazione. E invece no! E invece pagano i cornuti e mazziati i testimoni di Geova. Ma qui siamo all'assurdo. Ma mi sembra anche ridicolo che io debba fare una critica del genere. No, perché sapete, poi si dicono gli apostati, gli apostati, sono sempre a criticare. Ma ragazzi, ma questa è una critica dovuta. Ma non criticare sta cosa qua è ridicolo. Ora ripeto, questo fondo è stato tolto. Ora avranno altri modi per imbottare soldi. Ma per 40 anni hanno fatto così. Per 40 anni hanno fatto così. E' veramente assurdo che io debba ribadire l'ovvio, l'ovvio, veramente, veramente. Torno nella scena qua e continuiamo con l'audio. Il mio popolo si offrirà volentemente. Qua citano la scrittura di Salmo, uno dei salmi, adesso ve lo prendo. Eccolo qua, l'ho presa con l'interlineare. Almeno vedete che qua c'è scritto your power, no? Il tuo popolo si offrirà volentosamente nel giorno della tua potenza. Questo era soltanto una piccola riflessione per dirvi che questo Salmo ovviamente si applica al contesto del presente in cui era stato scritto quella cosa lì del popolo di Israele. Però se vogliamo proprio attuare questa visione teologica cristiana che fa riferimento al futuro, no? Il giorno della tua potenza, dal punto di vista teologico, sarebbe quando ritorna ad Armageddon, no? Ma ancora non è scoppiato Armageddon. E quindi questa scrittura in realtà si dovrebbe considerare nella visione teologica dei testimoni di Giova quando scoppia Armageddon. Questa è solo una finezza così che chiamiamola finezza per far capire ai testimoni di Giova che non solo il contesto della scrittura fa riferimento ovviamente al popolo di Israele e quello è un altro discorso. Ma se vogliamo fare questo sforzo di fantasia che si parla della visione cristiana dei testimoni di Giova, questa scrittura andrebbe appiccata che il tuo popolo si faranno i volontari quando ci sarà il giorno della potenza, no? Quando appunto ci sarà Armageddon. Vabbè, questa era una riflessione che volevo fare così a margine, a margine. C'è un'altra riflessione infatti che mi sono segnato ed è una fallaccia argomentativa. Cioè spiegatemi il motivo per il quale questa scrittura si applicherebbe solo ed esclusivamente al volontariato, tra virgolette, geovista. Le altre religioni non fanno volontariato? Cioè lo fanno solo i testimoni di Giova? Poi so già che un testimone di Giova dirà Ah, ma la buona notizia la predichiamo solo noi. Sì, ma nelle battle non ci vai a predicare solo la buona notizia. Ci vai anche a pulire i cessi. Quindi pulire i cessi non è predicare la buona notizia. Quindi il volontariato Come mai si applica solo ai testimoni di Giova e non anche alle altre religioni? Questa è una grandissima fallaccia argomentativa. Cioè loro partono dal presupposto che loro sono la verità e quindi si applica solo a loro questa scrittura. Ma questa cosa è vera solo nella loro mente e basta. Andiamo avanti. Capito? Tua figlia da anni si sta offrendo volontariosamente. Non è lavoro nero perché non è pagata. Se fosse pagata sarebbe lavoro nero. Capito? È lavoro nero. È lavoro nero. È lavoro nero. È lavoro nero donato a Giova. Donato a Giova. Cioè qua dice tua figlia non è pagata. Quindi se un domani dovessero rimuoverla dall'incarico cosa le ribanerebbe in mano? Cioè andrebbe in disoccupazione? No. C'è un percorso di reinserimento lavorativo? No. La Watchtower si fa carico di aiutare queste persone che escono? No? Questi ex beteliti si fa carico di aiutarli economicamente? Agiscono in armonia col capitolo 4 di Atti come vi ho fatto vedere. Prima? No. Discorso chiuso. E poi quando dice lavoro volontario donato a Giova. Questa è una delle più grandi assurdità della propaganda geovista. Cioè Dio avrebbe bisogno delle costruzioni umane? Cioè posso citarvi ad esempio l'Apostolo Paolo all'Europago, non ho mai capito com'è l'accento, in Atti 17 da 22 a 23, adesso vi prendo la scrittura, da 22 a 23, vedete? Quindi Paolo in mezzo all'Europago, ah qua ce l'ha messo l'accento, Aeropago, bene, finalmente, l'ho capito, bene, bene. Disse uomini di Atene, vedo che sotto ogni aspetto voi siete dediti al timore delle divinità più di altri, no? Per esempio passando e osservando attentamente i vostri oggetti di venerazione, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio sconosciuto. Ebbene io vi proclamo proprio quello che voi adorate senza conoscerlo. Che furbacchione, che sofista Apostolo Paolo, vabbè questo è un altro discorso. L'Idio che ha fatto il mondo e tutto ciò che è in esso, essendo Egli il Signore del Cielo e della Terra, non abita in templi fatti da mani umane, né ha bisogno di essere servito da mani umane, come se gli mancasse qualcosa. Perché è Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa, capito? Poi una curiosità che vi volevo dire, qua nel 29, perciò visto che siamo figli di Dio, non dobbiamo pensare che l'essere divino sia simile all'oro, all'argento, eccetera, eccetera. Insomma, qua l'Apostolo Paolo cita due filosofi, Epimenide di Creta del VI secolo a.C. e Aratto di Soli del III secolo a.C. Epimenide, infatti, viviamo, in Lui, viviamo, ci muoviamo, esistiamo, sono cose che diceva su Zeus, no? Quando il poeta Epimenide si dice in Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. oppure la frase perché di lui anche noi siamo stirpe, qua è Arato che parla sempre nel poema Fenomeni, celebra la grandezza di Zeus quindi diciamo che Paolo in maniera veramente sofistica cerca di trovare un aggancio argomentativo con i pensatori della cultura greca questa era una parentesi che vi volevo fare così, se volete in un video vi analizzo tutto il discorso che fa Paolo e l'Europago perché è veramente l'apoteosi del sofismo e della manipolazione, se volete ve lo tratto, ma ora qua si aprirebbe un altro discorso poi so già che qualche testimone di Gioia mi potrà dire del tempio di Salomone, ma Dio aveva fatto costruire il tempio sì però gli aveva dato l'ordine diretto, gli aveva dato tutte le istruzioni per costruirlo non mi pare che ci sia stato l'ordine di costruire le Betel, cioè non facciamo i ragionamenti così cioè le Betel, ogni religione potrebbe dire di se stessa che le sue costruzioni sono la casa di Dio tra l'altro guardate l'incoerenza di chiamare Betel la Betel appunto, che vuol dire casa di Dio quando si dice nell'Apostolo Paolo che il tempio di Dio non è fatto con mano vedete che le contraddizioni ci sono sempre semplicemente i testimoni di Gioia sono una religione come tutte le altre che si è adottata di luoghi di culto punto, basta, stop, non è così difficile da capire torno qui guardate come chiosa la donna qua c'è quella che io chiamo comunicazione complementare o di supporto adesso vi leggo una riflessione che vi ho scritto cioè la donna chiosa altissimo questa è la chiara comunicazione complementare o di supporto che rafforza l'euristica sociale riaprirò questo discorso alla fine perché alla fine magari farò una riflessione generale sulle tecniche di manipolazione quindi c'è questa euristica sociale che è quella appunto che quando una persona vede più persone convenire alla solita ragione diciamo, questo ci induce di più a mettere in dubbio il nostro punto di vista proprio perché c'è questa euristica sociale ma se loro due dicono la stessa cosa perché io penso diversamente, capito? è come dire che tante persone che dicono la stessa cosa hanno ragione ovviamente anche questa è anche una fallaccia argomentativa va bene, andiamo avanti è il diritto più grande che tua figlia può fare perché per quanto possiamo guadagnare non ti sembra più giusto che noi abbiamo, io anche lui, abbiamo necessità potrebbe fare la volontaria in casa nostra? aiutare i suoi genitori? ma come fa? e perché non può fare anche la mia? ecco ho dovuto censurare i nomi vi spiego bene perché qua la mia nonna acquisita a cui mando veramente un abbraccio che è la madre di due figlie fa notare un dato di fatto inoppugnabile la figlia è lontana e manca il suo supporto perché ha la Betel la figlia Betelita vi ricordo che ha più di 80 anni la madre e quindi è lecito osservare questa discrepanza cioè io ho una certa età eppure piuttosto che andare alla Betel piuttosto che aiutarmi è andata alla Betel eccetera eccetera cioè Dio richiederebbe alla figlia di stare lontano dalla madre per svolgere funzioni alla Betel in ogni caso dopo c'è la manipolazione proprio torniamo sul gaslighting comunque sentite la risposta perché è questa la cosa che fa veramente innervosire di più per non dire altro io sto parlando della... comunque una persona bisogna sentirsi realizzata di fare la propria vita cioè anche tu come mamma mica vorresti che lei infiegasse la sua vita e magari cioè lei adesso ha un'età in cui sta facendo una cosa che la rende felice e tu non sei felice di la sua felicità io penso di sì perché ogni mamma io quando ho visto stamattina partire tutto contento va lì in un ambiente di tanti giovani volontari ma sai che esperienza di vita ma... mi fermo un attimo perché ci sono tanti concetti insieme allora iniziamo da capo col discorso ripeto un attimo e perché non può farlo anche la ha messo il nome della sorella che non è testimone di Geova cioè praticamente questa sorella che non è testimone di Geova si dovrebbe accollare tutta la responsabilità di accudire la madre e il padre dove sta scritto che solo una figlia si debba accollare questa cosa qua se è nelle possibilità dell'altra figlia farlo vabbè questa è una riflessione mia non voglio entrare nel personale della famiglia però mi sembra un discorso che ha poco senso cioè anche anche l'altra figlia avrà le sue cose che vuole fare nella sua vita non è che l'altra figlia non testimone di Geova deve azzerare le sue cose che vuole fare nella sua vita perché l'altra deve andare alla Betel cioè non è che parliamo di due testimoni di Geova l'altra che non va alla Betel dirà chi se ne frega che va alla Betel a me mi interessa per dire no? cioè questo atteggiamento a mio avviso è un atteggiamento egoistico della figlia che va alla Betel e secondo me giustificarlo non è giusto ma questo è un mio punto di vista cioè ognuno nella sua famiglia poi si gestisce come vuole dal mio punto di vista ed esterno lo reputo veramente sbagliato questo argomento in questo caso la parte lesa è la sorella non testimone di Geova che deve provvedere ai genitori da sola sapendo di avere una sorella che ha scelto di fare volontariato dentro una religione e vedere poco la madre poi continua la donna testimone di Geova nella sua manipolazione la ha e poi dice il nome della figlia io l'ho dovuto togliere comunque ha bisogno di sentirsi realizzata e di fare la propria vita cioè anche tu come mamma mica vorresti che impiegasse la sua vita e magari vedete qua si ferma come avete notato si incarta nel discorso perché probabilmente stava per dire mica vorresti che impiegasse la sua vita a badare a queste cose oppure a badare a te ovviamente questa cosa non la poteva dire e ha fatto inversione di marcia rimane il fatto che anche qui abbiamo un poderoso gaslighting e un'altra fallaccia argomentativa perché il discorso del sentirsi realizzati potrebbe farlo anche la sorella non testimone di Geova che acudisce i genitori invece della sorella che è testimone di Geova la bete veramente io qua avrei anche adesso da leggervi delle scritture perché se facciamo finta che la religione dei testimoni di Geova è la verità facciamo finta che è la verità in realtà c'è più probabilità secondo quello che io interpreto della Bibbia che la figlia non testimone di Geova sia più favorita agli occhi di Dio rispetto alla figlia betelita e vi faccio vedere perché c'è una scrittura indicativa ve ne leggo più di una ma la prima è proprio quella che fotografa la situazione andiamo a leggere Marco 7 9 13 che dice così ascoltate bene poi ve la spiego ascoltate bene inoltre disse loro Gesù Cristo sta parlando voi siete abili nell'ignorare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione sta parlando agli ebrei ai sacerdoti per esempio Mosè ha detto onora tuo padre e tua madre e già qua abbiamo l'indicazione che prende il comandamento onora tuo padre e tua madre e continua e chi parla in modo offensivo di suo padre e sua madre si è messo a morte no addirittura c'ha appena di morte per chi parla male dei genitori andiamo avanti ma voi dite non è tanto questo il discorso è più avanti un uomo può dire a suo padre e a sua madre così qualunque ve lo prendo bene da qua qualunque cosa io abbia che potrebbe esserti d'aiuto è corban o corban cioè un dono dedicato a Dio il corban era il sacrificio rituale degli animali per offrirle a Dio quindi dice così qualunque cosa io abbia che potrebbe esserti di aiuto è corban e così non gli lasciate fare più nulla per suo padre e sua madre in questo modo con la tradizione che avete tramandato rendete la parola di Dio senza valore e fate molte cose simili a questa ragazzi è un po' elaborato il discorso ma è molto semplice cioè sta dicendo che ci sono persone che si vantano di offrire tutto a Dio e lasciano i genitori senza soldi cioè offrono i soldi come sacrificio a Dio però i genitori li lasciano nell'indeggenza cioè capito e così dice non lasciate fare più nulla per suo padre o sua madre cioè date conto alle cose della legge però allo stesso tempo contravenite la legge cioè è la stessa cosa di dire la figlia va alla betel e alla madre al padre e chi ci pensa cioè offrire il sacrificio del tempo alla betel in questo caso se facciamo un'analogia e però la madre se ha dei problemi non c'è la figlia cioè può succedere qualsiasi cosa se la figlia non c'è e quindi si contraddice uno dei comandamenti è assurda sta cosa qua è assurda che ve la debba dire io che sono un'apostata questa cosa qua però poi possiamo andare anche in Timotio capitolo 5 versetto 4 ma se una vedova ha figlio o nipoti questi imparino prima a mostrare devozione a Dio nella propria casa e a rendersi genitori e nonni ciò che è dovuto loro e a rendere a genitori e nonni ciò che è dovuto loro perché questo è gradito a Dio per dire questa potrebbe essere anche un'altra scrittura che fa capire poi in esodo 20 abbiamo sempre il comandamento capitolo 12 onora tuo padre e tua madre così da vivere a lungo nel paese che Giova tuo Dio sta per darti qua ovviamente si parla nella ma in ebrei anche capitolo 13 e versetto 16 c'è inoltre non dimenticate di fare il bene di condividere con gli altri quello che avete perché Dio si compiace di tale sacrificio in realtà questa scrittura se la peniamo in altre Bibbie significa di star vicini alle persone di fare la carità di stargli vicino di condividere e se la uniamo al discorso di acudire i genitori non fa una piega con questo però volevo chiudere questo discorso qua però avete visto come è indicativa la scrittura che vi ho fatto vedere di Matteo capitolo 7 versetti da 9 a 13 cioè qua si parla proprio che fare sacrificio a Dio e spendere tutto qua si parla anche di soldi ma anche di tempo si potrebbe dire per fare quella cosa lì e tralasciare i genitori significa contravenire la legge di Dio e lo dice Gesù Cristo non è che lo dice il primo che passa così cioè non ascoltare le parole di quella che dovrebbe essere la la colui che ispira al cristianesimo è veramente assurdo eh comunque poi avete visto anche che nella frase c'è cioè tu come mamma no qui c'è l'appello all'essere madre e questo è un altro elemento che c'era anche negli altri audio che vi ho fatto vedere delle altre manipolazioni no cioè tu sei mamma e questo serve per innescare il senso di colpa verso la figlia che lavora la bet ma come ma tu che sei mamma non ti preoccupi del benessere di tua figlia questo è gaslighting ragazzi perché il gaslighting ha un po' questo binario tra dubbio e senso di colpa cioè in primis devi innescare il dubbio nella vittima e poi la reazione che ne causa il senso di colpa ecco in questo caso l'appello della madre è mirato proprio a questo ma come tu che sei mamma e qua c'è l'euristica no della si può dire della filia genitoriale potremmo dire no fare appello a questa cosa che le madri hanno verso i figli però rigirargliela contro quindi far venire il dubbio che non sia una buona madre perché dubita della figlia che invece di fargli fare la sua vita alla betel allora dovrei farla a madre no no ribaltiamo il concetto perché la madre ha più di 80 anni è la madre che ora ha bisogno della figlia non è il contrario quindi le manipolazioni sono queste queste sono le manipolazioni c'è proprio tutto un contesto manipolatorio andiamo avanti col discorso ma si pagherebbero miliardi per avere una formazione di vita così bella di persone di ogni nazione che vengono lì e ti danno la loro cultura la loro esperienza anche perché l'alternativa è stare nelle organizzazioni qui ma infatti poi continuava continuava così la donna in cui sta facendo una cosa che la rende felice tu non sei felice della sua felicità perché ogni mamma e poi continua il discorso che vedremo dopo e qua si continua col gaslighting e alla deresponsabilizzazione della figlia che lavora alla battle cioè qui tocchiamo non voglio dire vette altissime qua tocchiamo abissi bassissimi della manipolazione mentale fortunatamente la mia nonna acquisita è più intelligente di tutti i loro messi insieme e non si fa fregare da queste argomentazioni qua voglio farvi riascoltare voglio farvi riascoltare l'audio dove fa il discorso della mamma almeno magari si rinfresca un po' la memoria con la comunicazione manipolatoria perché ripetita juvent comunque una persona bisogna sentirsi realizzata di fare la propria vita anche tu come mamma mica vorresti che lei infiegasse la sua vita e magari cioè lei adesso ha un'età in cui sta facendo una cosa che la rende felice e tu non sei felice di la sua felicità io penso di sì perché ogni mamma io quando ho visto stamattina partire tutto contento va lì in un ambiente di tanti giovani volontari ma sai che esperienza di vita ma si pagherebbero miliardi per avere una formazione di vita ma si pagherebbero miliardi cosa ma cosa dici ma cosa dici ma sentite quante ne dice io mi sto trattenendo ragazzi mi sto veramente trattenendo però che siamo veramente siamo veramente all'assurdo di persone di ogni nazione che vengono lì e ti danno la loro cultura la loro esperienza anche perché l'alternativa a stare nelle organizzazioni qui sentite cosa dice adesso anche perché l'alternativa a stare nelle organizzazioni qui parla di quelle del mondo sentite bene ragazzi vuol dire andare in mezzo a gente violenta bestemmie roba che capito vuol dire andare in mezzo a gente violenta bestemmie capito e sentite cosa dice mia nonna acquisita il mondo è fatto solo di questo ve lo rimando indietro perché almeno si capisce meglio anche perché l'alternativa a stare nelle organizzazioni qui vuol dire andare in mezzo a gente violenta bestemmie e roba che capito ma perché il mondo è fatto solo di questo non è vero è fatto perché io non sono mai stata violenta sentite come il mondo è fatto soprattutto di questo dice la donna no? anche qua si fa sempre a latere del dell'uomo che è quello che ha la direttiva cioè il bello e qua apro una parentesi non me ne vogliate le donne non hanno nessuna autorità all'interno dei testimoni di Geova cioè loro alle assemblee puliscono i cessi non hanno non hanno nulla da gestire non c'hanno nulla fanno tutti i maschi le cose importanti della religione lo fanno i maschi le donne alle assemblee possono pulire i cessi eh tra l'altro so delle cose sui cessi dell'assemblea che lasciamo stare uomini che si vanno perché repressi come sono le so ste cose ragazzi me le vengono a raccontare quindi lasciamo stare delle robe assurde i vicini di casa non sono mai violenti sono persone che amano la famiglia che rispettano i loro non hanno la cosa più importante poi all'improvviso senti ammazza la moglie ammazza la figlia ma quello succede lo stesso ma perché non succede nei testimoni di Geova questa cosa che si ammazzano moglie e marito ma nel mio canale l'ho fatto vedere tutti i casi di cronaca soprattutto negli Stati Uniti guardatevi ostracismo l'emarginazione che uccide un altro video che vi metto qua vi faccio vedere i casi di cronaca dove ci sono gli ex testimoni di Geova che si sono uccisi anche soprattutto per l'ostracismo i casi di cronaca ma poi anche questa è una fallaccia argomentativa ma come si può comparare una società umana di 8 miliardi di persone con una società di 8 milioni di persone è ovvio che la casistica negli 8 milioni di persone è più bassa ma c'è anche da dire che se prendiamo il caso ad esempio le violenze sessuali nei testimoni di Geova sono altissime sono altissime come sono alte anche in altre religioni ma sono altissime violenze in ambito familiari io personalmente non sapete quante ne vengo a sapere cioè sono stronzate queste che dicono questi qua sono delle merite stronzate un momento c'è da specificare anche un'altra piccola cosa ma guardate la commissione reale australiana senza guardate a vedere la commissione reale australiana almeno magari i testimoni di Geova si svegliano non è vero che sono stati tanto tolleranti specialmente quello qui di fronte perché in tante e tante occasioni mi rifacciava il fatto che ero un testimone di Geova ma tante e tante volte io glielo chiedevo il perché fosse arrabbiato con me io gli dicevo ma dimi il perché perché ti inventi le cose cose di che di che cose invento le cose guarda intanto è morto ma sì è morto però sta raccontando le fedele cioè qua guardate poi la contraddizione che ci sarà dopo perché qua il marito sta dicendo che un loro vicino che non c'è più non è che si era comportato così bene perché lo criticava di essere testimone di Geova evidentemente al vicino non avrà considerato che gli avrà scassato i maroni con sta storia dei testimoni di Geova ma quella è una cosa che il testimone di Geova non riesce ad elaborare probabilmente comunque adesso andiamo avanti e vedrete che il marito si contraddice comunque io vivo ancora e lavoro ma non è così non è così non lo parli così ma non è così è stata una prima splendida allora prima di tutto sono stato uno di quelli che quando è stato male sono il primo a correre ma no se facciamo solo a correre va bene di prima no anche questi di sotto perché poi fisicamente non ce la facevo danzando perché ero smenuto e non ce la facevo a metterlo sul letto è quello e non lo chiamano loro ma non è mica una bestia abita di fronte logico ma non è via ascolta lui ti sta spiegando un'altra cosa cioè non è che sta parlando male in memoria di questa persona non sto parlando male di quello sto parlando semplicemente che anche nel subconscio anche nel subconscio no cioè dai fatti al subconscio vabbè lasciamo stare cioè prima ah no ma il male ah no ma il subconscio che questo vicino di casa ce l'aveva con i testimoni di Giova vabbè lasciamo stare andiamo avanti e lasciate per il contrario e lasciamo stare i stati particolari non è vero comunque comunque mi è stato detto che queste cose che ha detto sono false e io sinceramente credo più a mia nonna acquisita guarda cosa gli sta dicendo Valeria io vedo anche negli ambienti di lavoro al di là dei testi di Giova sono tutti amici quando si divertono ma si parlano dietro se ne fanno di tutti i colori e se possono per guadagnare una lira in più ammazzano qual'altro sentito carissimi che opinione hanno i testimoni di Giova delle persone del mondo poi davanti a voi fanno la comunicazione assertiva no ma sai ma no tutte le belle facce i sorrisi belli eleganti vi accolgono con questa calma ma questo è quello che pensano di voi questo è quello che dicono in privato le persone del mondo loro le vedono così come delle bestie in gabbia che si azzannano che sono pronti a farti la pelle subito appena giri le spalle ti fanno la pelle ma l'avete sentito le cose che dicono ma se se questa persona non pensa veramente queste cose no perché sta cercando di queste visite servono per fare tornare all'ovile le persone no e guardate che metodi utilizzano è assurdo dire che tu che il mondo è così che le persone sono così anche per una persona plagiata mi sembra strano dire eh sono così sono tutti così si fanno la pelle questi sono dei manipolatori manipolatori sono sti qua capito poi adesso tra dieci giorni inviteranno tutti alla cena aziendale lì tutti a far la festa perché si mangia ma poi la festa perché si mangia capito come per dire la crapula del mangiare mica fare la festa per stare insieme no quelli del mondo lo fanno per convenienza per mangiare per mangiare la crapula del mangiare del bere si odiano quelle persone si odiano quelle persone capito io qua parlo a chi non è mai stato nei testimoni di Geova i testimoni di Geova non vi sopportano non vedono l'ora che viene Dio a spazzarci via ma non è vero nella sala del regno io ho visto tanta di quella ipocrisia da fare schifo e in questi dieci anni di di attivismo mi sono state raccontate delle cose schifosissime lì dentro c'è un'ipocrisia c'è un'omertà che si taglia col coltello è uno schifo quello che c'è lì dentro no e io qua visto che loro dicono che c'è lo schifo di fuori io sono libero di dire che lì dentro fa schifo Diobono fa schifo quella roba lì fa schifo fa schifo cioè io sono libero di dire che lì dentro fa schifo tanto quanto loro dicono che fuori facciamo schifo io dico che lì dentro fa schifo fa schifo ho visto persone parlarsi dietro dirsi di tutto cose che non vedo di fuori di fuori io questi esseri pettegoli così non li vedo non li vedo lì dentro era pieno a me stesso anche a me quante cose mi raccontavano dei cazzi degli altri che io non volevo sapere ma me li venivano a raccontare perché non sanno che cazzo fare lì dentro sono dei frustrati sessuali sono dei frustrati da tutti i punti di vista perché non possono fare le cose che gli piace fare che devono fare sempre le robe lì alla sale del regno andare a predicare queste cose qua sono dei repressi e scaricano la loro la loro frustrazione sugli altri assurdo assurdo sono persone che fanno degli errori per carità ci sono ma non vedo quell'odio che c'è nel mondo se vado a uno stadio quando c'è una partita vedi l'odio vedi la violenza vedi se hai condizionato un'assemblea non lo vedi ma come si può ma come si ma come si può paragonare ma come si può paragonare come si può paragonare l'assemblea allo stadio dove ci vanno gli ultra ma come cacchio si fa ma ma io potevo prendere un altro esempio allora paragonami l'assemblea con un raduno di scienziati già cambia la questione ma che cazzo dice sta gente ma gli veramente ma sono ma cosa cosa gli dice il cervello cosa gli dice il cervello stai negando l'evidenza stai negando l'evidenza ma guardate come infieriscono stai negando l'evidenza continuano con questa manipolazione qua ed è impossibile non ti possiamo permettere di negare l'evidenza ma per il tuo bene non per il nostro per il tuo bene che ipocrisia per il tuo bene non possiamo permetterti di negare l'evidenza ma questa è l'evidenza questa è l'evidenza paragonare un'assemblea dei testimoni di giova allo stadio dove vanno gli ultra ma questa è l'evidenza ma di cosa state parlando paragonatemela a un raduno di astronomi vedete come cambia la cosa mamma mia ragazzi quante cazzate scusate mi altero non ce la faccio io ho detto sto tranquillo non ce la faccio mi alterano queste cose qua mi dispiace vedere che non vedi cose che sono ma che dici queste organizzazioni religiose la carita io ho visto quel congresso che c'è stato a Roma 20.000 persone hanno dovuto chiamare le ruspe a tirare su le mondizie dopo e il comune infatti ha detto non faremo più manifestazioni degli enti ma queste cose qua ma se le sono sognate loro queste cose che arrivano le ruspe a prendere la monnezza delle persone che vanno lì ma poi cavolo ma ci saranno anche sti casi ma cosa rappresentano cioè ripeto ci sono contesti in cui anche altri puliranno non è che siete solo voi testimoni di Giova che puliscono ci saranno persone che non lo fanno ma ci saranno altri che lo fanno vai a vedere dopo un'assemblea cosa resta per terra mamma mi siamo andati a Marazzi di Genova mi ricordo c'erano i figli piccoli abbiamo reso quella quella quello stadio pulito la gente andavano i miei rozzi al mattino a prendere la mangiata e ci lodavano lodavano i testimoni di Giova per il lavoro lodavano i testimoni di Giova per il lavoro fatto ragazzi questa è pura propaganda ma non serve manco che ve lo sto a dire brava diglielo che loro fanno tanto di no però i complimenti quando glieli fanno come si gonfiano è quello che aspettate la lode dell'uomo perché quando andiamo a predicare prendiamo solo forte in faccia e brutte parole quindi non abbiamo la lode dell'uomo ma se prendete porte in faccia e brutte parole fatevi due domande ma fatevi due domande quando l'uomo vede l'evidenza dei fatti è ovvio che è costretto a dichiarare certe cose mi aiuti a far da mangiare adesso devo andare a far da mangiare e mi aiuti tu oh qua ribalta la situazione gli ha chiesto ok mi aiuti a far da mangiare ha detto io adesso ho da far da mangiare mi aiuti a far da mangiare e lei gli ha detto oh mi aiuti te anche io ho da fare da mangiare mi aiuti te gli ha ribaltato la situazione capito gli ha ribaltato la frittata e giustamente la risposta dopo è stata giustissima allora io sono in condizione di non poter aiutare nessuno ho 81 anni 82 anni voi gli siete venuti a farmi una visita e dico se mi dai ormai a fare una cosa no devo andare allora tu non ti dico se li fanno ma perché tu guarda prima mi dici di andare via ma poi mi dici di venire guarda mi metti a far da mangiare guarda come sono cristiani cristiani bellissimi bellissimi come siete volenterosi ad aiutare le persone neanche una signora anziana mi fate mi fate venire i conati di vomito perché lì qualsiasi persona del mondo non voglio qualsiasi persona normale diciamo così del mondo non certo un killer o un delinquente una persona normale qualsiasi lì gli avrebbe detto sì ti do una mano ma come si fa a dir di no o a rigirargli la questione così a una persona di quella età ma c'hai bisogno va bene ti do una mano che ipocrisia che ipocrisia cioè poteva dirgli di sì faceva la bella figura almeno invece guardate come gli ha risposto ma che vergogna che vergogna veramente volentieri poi cambia poi cambia dice volentieri ma giustamente poi lei gli risponde sì ma non lo fai più non lo fai di tua volontà perché te l'ho detto io ma non è di cuore non è di cuore dice vedi non è di cuore cioè mi dici ah sì dai lo faccio ma non è di cuore ormai la risposta è la prima che mi hai dato che vale cioè dopo hai cercato di arrampicarti sugli specchi basta 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 adesso qua non sopporta più la situazione perché lei mi ha mandato un audio che dura dieci minuti ma mi ha detto che era più lungo poi qualche suo audio ve lo faccio sentire ma questo è il modo di parlare a una signora di quell'età lì e io ora ho censurato ho modificato le voci vi assicuro che senza queste modifiche si sente un po' di più la comunicazione paraverbale cioè la tonalità queste cose qua il modo di esprimersi queste persone sono dei manipolatori sono persone cattive e lo posso dire perché tanto la loro identità non si sa chi è la mia opinione è che queste persone sono persone veramente poco etiche cattive maliziose maliziose prevenute discriminano domani mattina tu puoi un altro giorno che domani mattina viene la signora le pulizie e ora ti vieni qualcuno a fare le pulizie hai capito ah vedi come si lava le mani subito come Ponzio Pilato allora viene qualcuno a fare le pulizie e che me frega hai capito quello vuol dire aiuto concreto hai capito l'aiuto concreto significa anche parlare l'aiuto concreto significa anche parlare capito apostatacci se da casa qualcuno di voi ha bisogno di un favore proprio concreto proprio di un aiuto fisico io se volete vi vengo a dare delle buone parole no magari vi posso dire dei discorsi motivazionali per farvi lavorare meglio ecco questo può essere il mio aiuto noi siamo quello che pensiamo pensate gli altri no gli altri sono tutti ipocriti noi siamo quello che pensiamo il problema è che quello che pensate voi è merda e dite merda scusate ma non ce la faccio a rimanere tranquillo proprio non ce la faccio fai la brava io sono già brava fai la brava gli ha detto e giustamente gli ha risposto io sono già brava fai la brava fai la brava gli dici ma fate i bravi voi fate fate i bravi voi fate ecco c'è bisogno cioè io vengo a trovare una volta che noi ci conosciamo tantissimo ma non venire a trovare ma va dai cerca di essere positiva cerca di essere positiva se ci fosse stato io lì dentro sarebbe successo il delirio io li mandavo fuori gli dicevo non insulti ma lei non lo può fare giustamente è giusto che non lo faccia ma se ci fossi stato io altro che positivo pensavo devi farla brava ma fate i bravi voi fate allora ho sempre cerco a fare la brava come dire come dire a me mi sembra che non ti manca niente mi sembra che non ti manca niente non è che lo puoi dire te lo saprà lei cosa gli manca no gli fai pure i conti in tasca di quello che gli manca ma lo saprà lei cosa gli manca non si fa così aiutiamo e tu lo sai in realtà mi ha detto che gli aiuti non ne fanno non fanno nulla sti qua mi ha detto c'è la figlia qui capito si deve accollare tutta la figlia non testimone che fa le sue cose giuste si deve accollare tutto lei ma siccome lei lavora tu vuoi sfruttare invece una situazione con altre persone per dire che sono cristiani per dire ecco quello che vuoi hai capito cioè adesso è lei che vuole sfruttare la situazione cioè questi vengono a fargli ste visite pastorali della minchia che non servono a niente se non a innervosire e a far star male perché poi vi farò sentire gli audio della mia nonna acquisita a far innervosire una signora anziana a far era ragazzi quando mi ha mandato gli audio lei era veramente scossa aveva 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 i nervi a fior di pelle non la reggeva più quella situazione lì e io io chiedo alle associazioni di settore di far qualcosa su ste cose qua quel che si può fare perché chissà quanti anziani che ci sono che io non conosco neanche perché questa signora mi ha conosciuto su youtube ma se ci sono alcune che non stanno sui social si devono beccare questa cosa qua almeno lei c'ha a me con cui può parlare con qualcuno con cui confidarsi io praticamente chiedo aiuto a loro perché loro dicono noi aiutiamo le persone nel bisogno giusto aiuta giusto visto che dicono che aiutano le persone nel bisogno guardate che la sua argomentazione è perfetta cioè le mette davanti alla loro ipocrisia solo che loro non ci stanno e la devono manipolare e ti abbiamo aiutato cosa che invece mi ha detto che non è vero poi adesso stiamo aiutando per esempio una sorella ascoltami adesso stiamo dando la priorità per esempio a fratelli e sorelle che hanno proprio delle situazioni tipo c'è una sorella che si è rotta il piede ha tre figli è chiaro che siamo andati anche da questa sorella qua e quindi che altro gaslighting perché c'è un altro che sta male allora a lei non l'aiutate cioè fatemi capire qual è il discorso ma il comune mezzo gaudio che discorso è sto qua o abbiamo sbagliato cioè o uno fa volontariato o non lo fa signori eh cioè giriamo intorno alle parole no sai non sono potuto venire a darti una mano perché c'era un altro che stava male ma siete 200.000 quanti quanti siete qua no vabbè in Italia sì 200.000 sarete non so ma lì dove abitate voi sarà una congregazione di 100 persone non c'è una persona che può aiutare una signora anziana che tra l'altro c'è una delle figlie alla betel quindi magari potreste dire visto che c'è la figlia alla betel gli veniamo a dare una mano per dire oltre l'essere anziano c'è anche questa cosa qua ma non ha detto di venire solo da lei guardate come gli mettono in bocca delle parole manipolatori non ha detto di andare solo da lei ha detto visto che voi dite che fate aiuti aiutate datemi una mano ha detto solo questo invece lei ha detto noi non veniamo solo da te ma non l'ha mai detto lei dovete venire solo da me non l'ha mai fatta questa richiesta io sto dicendo il mese scorso siamo andati da questa sorella voi andate dappertutto lo so ma lo scopo lo so è la nostra è il nostro amore ma no ma questo che è la fissazione che è ma si papà piantalo e poi non ce la fa più mi stanno confondendo ma che confusione miseria che vergogna che vergogna dici bene è una vergogna totale è una vergogna e lo ribadisco che è una vergogna proprio con l'enfagi giusta come ci hai dato te io visto che ci siamo dilungati nel video è praticamente quasi come una live si può dire vi lascio con gli audio che mi ha mi ha detto dopo la mia nonna acquisita e e vi saluto perché tanto i punti li abbiamo toccati la manipolazione l'avete vista c'è gaslighting a go go ci sono euristiche bias di conferma si potrebbe fare in attesi di laurea però penso che più o meno un'analisi buona è stata data potrei continuare ma mi fermo perché sennò viene troppo lungo il video se mai vediamo se rientrerò in un altro video sul discorso oppure anche in una live si può rifare qualche rianalizzare qualcosa detto questo vi saluto vi lascio agli audio almeno capite un po' lo stato emotivo suo di com'era quando mi ha scritto e ci vediamo alla alla prossima postatacci io spero che questi audio possano servire anche alle associazioni per cercare di far qualcosa detto questo ci vediamo alla prossima ciao a tutti Stefano ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato però purtroppo quella è una minima minima parte che sono riuscita visto che mi guardavano avevo paura di prendere il telefono che poi sono sono riuscita ho messo in un modo così però praticamente ovviamente le cose gravi brutte che hanno detto non sono state riprese perché ci ho pensato un po' troppo tardi ho capito comunque mi fa piacere sentirti Stefano e se sarà come voglio dire un motivo per poter che tu capisci di più la situazione la manipolazione che mi fanno ecco tu la capisci anche le piccole parole che hanno detto che dicono lo sai già comunque ti ringrazio ci sentiamo ciao 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 Stefano fai quello che pensi giusto di fare sono convinta che qualcosa di buono salta fuori da quelle poche cose che che ho riuscito a registrare perché effettivamente ero ero impaurita e non riuscivo a dire niente e allora poi mi è venuto in mente dopo di di prendere il registratore capito comunque che poi ha detto tante di quelle cose inventate se inventano che avete proprio delle esperienze che non è vero perché mio marito diceva che ha fatto quell'esperienza qui invece non non è vero perché ve li potete spiegare adesso dico troppe cose però non dico niente in sostanza va bene Stefano fallo pure sono contenta anche sentendo la mia voce non mi interessa niente perché effettivamente da quello che hanno detto sono cose abbastanza pesanti e quindi è giusto che la gente lo conosca questo modo di 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 trattare le persone ecco fallo fallo oggi come dici te che la voce degli altri la puoi anche coprire ma la mia non mi interessa niente perché perché è la pura verità e poi sono veramente sconvolta ciao essendo mio marito testimone di Geova sono costretta a fargli entrare capito però quando vengono lo scopo è quello di come voglio dire manipolare la mia mente per e di farmi rientrare in sala tutte queste cose qua capito ma io è da anni anni che sono fuori mi sono non è che sono stata disassociata perché io non mi sono auto come si dice mi sono allontanata e basta capito quindi vengono per recuperarmi ma col cavolo ce la fanno capito e si ripetono spesso queste visite anche sorvegliante anche e quindi sono sotto pressione molto molte volte anche sotto la come si dice la istingazione di mio marito che dice io non riesco più far venite voi allora finta che vengono lì con amicizia mi portano la piantina che io la tirerei in faccia perché sono ipocriti capito ma veramente sono falsi e così e così lo scopo è quello sinceramente penso che sia un anziano sì ma un anziano mezzo scemo perché non sa neanche si attiene semplicemente a quello che si è scritto che ha imparato a memoria e praticamente i ragionamenti un po' di ricerca non li hanno mai fatti come mio marito la stessa cosa mio marito non fa altro che sta lì sul computer a insultare le persone che la pensano diversamente ma le insulta sul serio e poi si inventa delle esperienze che non ha mai fatto e se ne è trasmissi a lui delle esperienze che 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 lui si è trovato dentro ha salvato questo ha fatto quell'altro delle cose cioè è una è un un bugiardo patologico ma veramente perché si inventa un momento delle cose ha parlato male di quel povero disgraziato che abitava di fronte a noi una bravissima persona pur di dire qualcosa di cattivo alle persone vicine ha detto che ne parlava male invece non è vero non è vero capito ciao scusami